buongiorno ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì mattina delle conversazioni viticole con una nuova settimana è un nuovo argomento da discutere un importante argomento questa settimana perché parliamo parleremo tra poco di peronospora questa ampelopatia che interessa quasi tutto il mondo viticolo e sono veramente poche le zone del mondo escluse che non hanno a che fare con questa mi veniva una parola tipo bestia perché è proprio una un fungo che ci mette alla prova ogni anno e che noi vogliamo capire meglio allora lo facciamo stamattina con una carissima ricercatrice ospite un'amica che stimo tantissimo da tanti anni pensate che uno dei primi libri che ho scritto quando iniziato a lavorare nel professionista nel 1998 è stato proprio un testo un libro molto bello che ho letto con grande attenzione scritto da luisa e da mauro barner che è il suo compagno di vita e oltre che essere un tecnico molto importante e conosciuto ecco e quindi questo mi ha ispirato alla grande attenzione e passione nel stare nel vigneto e controllare con attenzione ogni dettaglio devo dire che mi ha ispirato molto e quindi sono molto contento e onorato di averla stamattina a discutere di un argomento quello della peronospora insieme quindi sarà una bellissima diretta e quindi adesso una una breve sigla per iniziare poi verrà presente eccoci qua buongiorno luisa ciao a tutti buongiorno in una bella giornata un ennesima bellissima giornata quando c'è il sole siamo solari anche noi abbiamo un umore l'umore diverso per fortuna allora luisa io ti ho presentato così come 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 ci siamo come ci conosciamo da tanti anni ma luisa hai lavorato tantissimi anni no in fondazione mac san michel all'adige poi fondazione mac dove hai dedicato appunto la tua 43 quanti anni 43 anni mamma mia grande dieta beh e so che è stata una esperienza molto molto importante e che ha e ti ha permesso di acquisire grazie la tua anche abilità propensione all'osservazione del dettaglio a stare vicino alla alle persone alla natura con una sensibilità particolare di costruire anche un grosso tuo bagaglio di esperienza pratica che quello che poi diciamo serve serve a tutti quelli che ci ascoltano perché traduce in parole povere semplici che la povertà non è una brutta cosa non è anche semplicità e in parole semplici quello che ogni tanto di fatto anche altri esperti non 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 si addentrano perché magari non hanno frequentato così tanto i vigneti allora e luisa l'argomento è l'argomento è la peronospora che conosci bene però come mi dicevi prima non si finisce mai di conoscerla è una verità che è una grande verità non si finisce mai di conoscere ma soprattutto dopo c'è bisogno di ciascuno di noi perché e qua sta l'importanza proprio di non delegare mai i lavori perché anch'io tante cose le ho imparate grazie allo spirito di osservazione del viticoltore se non ci fossero questi rapporti anche così diretti con chi è in campagna più di noi nello stesso vigneto quindi nello stesso appezzamento nella stessa zona ecco che non non bisogna mai essere presuntuosi quando dobbiamo usare gli occhi uno dei nostri meravigliosi sensi e la testa un'altra delle nostre meravigliose anche proprietà un po' personali ecco che riusciamo a costruire quella piccolo bagaglio di conoscenza che ci aiuta ad avvicinarci alla natura perché in questo caso la peronoscura è natura e noi siamo degli umili spettatori osservatori e la conoscenza ha bisogno di ciascuno di noi quindi mai aver paura di dire quello che si vede mai 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 e quindi qua proprio il mio buongiorno il mio ciao è dire che io forse sono un po' portavoce in questo momento di di tante osservazioni nei quali è vero c'è qualcosa di mio ma è anche una sintesi di una cosa meravigliosa non solo del lavoro ma del vivere che è fare rete costruire confrontarci e sapere di essere uniti tutti con un unico scopo che in questo caso è conoscere un po' di più la peronospora e imparare a gestirla e imparare a entrare in confidenza un pochino giorno per giorno con la natura ecco adesso ho già quasi fatto le conclusioni no guarda non preoccuparti che ci sono di quelle domande che voglio farti che me ne basta allora io approfitto anche della della presentazione di alcune slide in realtà che così preparando l'appuntamento di stamattina hai messo insieme proprio su questi argomenti che avevo pensato quindi il primo è perché è importante eseguire il monitoraggio attento della presenza di peronospora perché uno potrebbe essere la prima domanda di tutti ma perché devo fare questo monitoraggio che mi costa del tempo invece probabilmente è dedico del tempo occupo bene la parte del mio tempo no Luisa cosa dici certo allora è la prima sicuramente la prima domanda automatica ma perché serve guardare e queste cose le ho imparate tanto dai miei studenti no dove nella gioventù l'immediatezza e tutto è subito è la cosa più banale che ci ritroviamo no e allora dire perché tutto è subito qualcosa perché devo guardare andare a guardare la peronospora e allora questo è un esercizio importantissimo che dobbiamo assolutamente fare ecco perché possiamo incominciare a dare le risposte allora la prima cosa quello che l'agricoltore poi da tempo conosce allora la prima risposta perché è importante andare a monitorare il territorio allora il monitoraggio così come introduzione velocissima il monitoraggio è una cosa importantissima perché noi sappiamo che esiste un monitoraggio di quello che può essere un testimone così introduco un elemento fondamentale avere sempre a disposizione qualcosa di nuovo va bene di non trattato perché così imparo come sarebbe stato il risultato della peronospora in quella determinata annata e qui ecco la risposta vedete la vedete anche già in immagine non avere paura avere un piccolo testimone in azienda l'importante è tenerlo pulito tenerlo lontano dall'interferenza dei trattamenti perché vedete che fra il non trattato che vedete alla vostra destra e il trattato che c'è immediatamente su una delle nostre pergole sulla sinistra vedete che non c'è l'interferenza della presenza quindi ecco che non bisogna avere paura di avere un testimone e allora perché la prima cosa? allora la prima cosa importante è che ogni anno è importante conoscere quando ci sono le prime macchie di peronospora quando si è svegliata in quell'anno la peronospora e questa guardate è una cosa storica che non abbiamo inventato nessuno di noi ecco abbiamo allegato anche delle informazioni storiche perché per sapere quando c'è la prima macchia vuol dire mettere il primo tassello nella conoscenza della peronospora ogni anno la peronospora parte da lì da quel momento che dal terreno torna in pianta e questo momento ovviamente che ha bisogno di una serie di condizioni climatiche però quel momento lì noi lo registriamo ogni anno grazie al nostro vedere e queste sono alcune immagini storiche che partono dal 1880 cioè da quando la peronospora è arrivata in Europa guardate la prima macchia come è fluttuante nel tempo vedete queste sono le date storiche che a San Michele abbiamo ma non solo a San Michele ma c'è questa biblioteca storica molto bella dove con emozione questo lavoro è stato fatto da subito perché ogni anno anche quando è arrivata la prima macchia di peronospora ma chi è che l'ha trovata? Dov'è? e vedete questi sono questi dati e pensate che nel passato addirittura era previsto anche un regalo in moneta per chi trovava la prima macchia di peronospora capito? ecco perché la storia insegna e dovremo sempre tenerlo presente perché noi non abbiamo inventato niente siamo solo andati avanti con queste informazioni che appena il problema è comparso e l'uomo vuole prendere un po' di confidenza in questo caso la peronospora la prima cosa che da trovare è quando è che c'è la prima macchia? e quindi ecco un'altra cosa che non dobbiamo mai perdere di vista quando è che troviamo la prima macchia? e allora vedete che di storico ecco qua guardate noi abbiamo anche messo in relazione la presenza delle prime macchie di peronospora da quando noi abbiamo cominciato a lavorare e fino all'anno scorso ecco guardate queste sono le date della comparsa della prima macchia di peronospora e se guardiamo anche un valore un po' storico vedete che anche qua è un valore che nel tempo fluttua un anno è più precoce, un anno è più tardiva un anno è molto tardiva però è una storia che si ripete e quindi ecco anche continuare questa storia ci sentiamo artefici anche noi nel nostro piccolo della storia e artefici di questa conoscenza e allora è sempre importante sapere ogni anno quando la peronospora torna in pianta e quindi questo è sicuramente uno dei primi motivi per cui fare i monitoraggi è fondamentale e c'è bisogno di tutti perché tante volte la prima macchia l'agricoltore che esce in campo e fa tanti lavori è l'agricoltore che la segnala è vero è vero io tra l'altro Luisa quando ho costruito, ideato, sai la app for graves per fare il monitoraggio del vigneto ho inserito una funzione che a me piace in maniera incredibile spero che sia e so che piace anche a molti e interessa a molti tecnici agricobiticoltori italiani che è una funzione che si chiama tam tam e che cosa fa questa funzione? quando ognuno la prima volta della stagione mette peronospora diverso da zero manda un segnale anonimo a tutti gli altri che in quel giorno, in quel comune qualcuno ha trovato un'infezione di peronospora e ognuno ha la propria quindi a me arriva da qualcuno io vado magari a controllare il mio vigneto la trovo anch'io e quindi c'è un secondo messaggio allora questa è la tecnologia che a me piace molto perché l'ho usata come se fosse il tam tam della foresta ma che è quello che hai appena descritto tu cioè è quel condividere questa informazione che aiuta tutti perché ci dice siamo in un altro adesso modo di pensare prima non c'era adesso c'è e poi vedremo che quando c'è diventa un'altra partita infatti questa a me piace molto perché vedo che in alcuni momenti vedi 10, 20 tam tam che ti arrivano vuol dire che tante persone che tu conosci hanno trovato la peronospora senza un segnale d'allerta un segnale d'allerta un segnale d'allerta ecco ecco e guardate e grazie a questo spirito poi di osservazione di seguire la peronospora in questo caso sempre relativa a non trattato ecco noi vediamo questo risultato guardate che abbiamo costruito negli ultimi anni no? però con i dati storici di sapere il grado di attacco che abbiamo a fine giugno come se fosse già un campanello d'allarme della stagione e ecco cosa vuol dire dopo la storia siccome poi noi abbiamo la memoria di quello che è successo se vogliamo mantenerla e coltivarla ecco vedete che se noi guardiamo la situazione che abbiamo a fine giugno ecco guardate vedete che l'idea di aver avuto un'annata più o meno importante ce l'abbiamo già guardate per esempio non so il 2020 il 2021 questo riferito alla nostra situazione trentino nel 2020 avevamo avuto una stagione veramente importante della peronospora nel 2021 invece dopo vedremo anche dove sta il perché di questa differenza però vedete che la gravità è completamente diversa quindi ecco tutte queste cose stuzzicano a capire ma perché succederà questo perché vedete non so noi avevamo avuto un'annata importante nel 2016 ecco cioè sono tante piccole cose che stimolano poi a costruire perché è logico che poi ciascuno entra nel proprio ruolo l'agricoltore entrerà principalmente nel ruolo di fare una gestione attenta e più carretta possibile l'agricoltore il tecnico avrà il compito di dare delle indicazioni e dei suggerimenti che aiutano a fare questa attività della gestione però chi poi è sperimentatore chi è ricercatore e andrà a seguire fino in fondo minuziosamente l'evoluzione ecco da una prima immagine storica di quello che può succedere in quel determinato momento e quindi ecco cosa vuol dire sì in questo caso Luisa trovo anche molto interessante soprattutto in questa visione di insieme di tanti anni si capisce molto di più sapendo che dietro c'è anche lo stesso metodo di rilevazione di osservazione che è importante perché così è confrontabile e so che il 2016 è stata veramente l'annata più difficile con maggior gravità di infezioni rispetto alle altre annate e mi permette di calibrare la propria strategia perché qualcuno avrebbe potuto dire nel 2021 ah ho fatto sono stato capace di difendermi senza usare niente solo con l'acqua vedi che si può fare no purtroppo non è che si può fare è stata un'annata che non ha esatto esatto allora questo succede spesso perché poi cos'è il brutto che qualcuno e mi dispiace per i viticoltori a cui capita questo pensano di aver trovato delle soluzioni semplici facili immediate quel bottone che si preme e magari poi nell'annata che gli è andata bene pensano che sia così e l'annata successiva diventa una 2.20 una 2.16 e purtroppo magari non vendemmiano niente allora questo a me dispiace sempre tanto perché è l'economia di persone che diventa poi difficile soprattutto del viticoltore del vignaiolo della vignaiola so che tanti ci seguono proprio come piccoli viticoltori italiani certo esattamente questo guarda Giovanni questo è un è un messaggio importantissimo è un messaggio importantissimo il risultato di ogni anno ecco perché servono i testimoni nelle zone perché il risultato di quello che facciamo deve essere correlato col rischio che corriamo e per conoscere il rischio bisogna avere dei testimoni e pensate tutto quello che è stato provato che ne so io nel 2009 2010 2021 magari tutti i modi nuovi di quell'anno noi crediamo di doverli addebitare spesso o alla nostra bravura magari quando siamo un po' presuntosi oppure al prodotto miracoloso perché viviamo sempre tutti nell'attesa del prodotto miracoloso però ogni cosa va sempre messa in relazione al rischio che abbiamo corso il 2016 ha messo in crisi tutte le gestioni tutti i prodotti tutte le conoscenze e da qui deriva l'umiltà di non essere mai arrivati a conoscere un fenomeno naturale però e lì abbiamo messo in crisi tutto nel 2021 invece abbiamo usannato tutto però il risultato è stato un colpo di fortuna grazie a come è stata l'incidenza della peronospora in quel determinato annato ecco e quindi ecco l'altro vedete l'altra immagine che vedete adesso sempre importantissima e riferita sempre ai testimoni è la vendemmia ecco vedete la relazione poi che vediamo già come vi dicevo a fine giugno ci dà un'idea di quello che succederà sul prodotto in questo momento parlo dell'uva quindi la gravità della peronospora alla vendemmia e vedete che nuovamente il 2021 si riconferma come un'annata di poco rischio di poco cioè tutto quello che abbiamo fatto nel 2021 alla fine ci ha insegnato poco perché è stata un'annata di poca pressione ecco e quindi ecco cosa vuol dire entrare un po' in sintonia con un'annata e quindi ecco che tutti tutti questi piccoli osservazioni del perché quindi è importante fare un monitoraggio ecco ci permettono di costruire una storia che nel tempo ci aiuta a costruire questo famoso comportamento della peronospora perché per costruirlo c'è bisogno del nostro voler vedere quindi di usare i nostri occhi e di usare la testa perché tutto quello che vediamo e dobbiamo anche renderlo un po' oggettivo è una di quelle cose che si possono mettere nei modelli che sono le cose moderne che tutti cerchiamo come aiuto e soprattutto che mettono e danno un ruolo importantissimo al mondo dei giovani che è quello che ha la maggior dimestichezza di noi o della sottoscritta con queste novità ecco questo è la videata di un modello vedete dietro dietro a ognuna di queste curve c'è una storia ed è il risultato di un'osservazione e quindi ecco cioè i modelli non cadono dal cielo c'è qualcuno che è bravo a costruirli che mette insieme tante conoscenze che le sa trasformare in qualcosina di matematico e abbiamo questi elementi che ci danno un piccolo aiuto che più verranno migliorati più aiuteranno il produttore viticoltore nelle decisioni e guardate questi modelli sono talmente interessanti che se guardate nella parte alta l'aria arancione addirittura sono in grado di dirci anche come la peronospora sta andando avanti nel nostro vigneto perché l'aria arancione è la quantità di macchie che vediamo nel nostro vigneto e quindi ecco il modello è interessante perché dà valore a quello che vediamo e dietro a ogni curva ripeto c'è il risultato di osservazione e allora ecco che dobbiamo vedere questo aiuto del futuro proprio come una sintesi come un qualcosa da mettere da rendere più perfetto nel tempo e quindi dove le osservazioni saranno sempre più importanti dove c'è bisogno di tutti e dove ecco che quello che prima era delegato un po' magari a qualcosa di personale perché grazie al cielo non siamo tutti uguali dice se io adesso ogni mattina vado a guardarmi se ci sono macchie da quando ci saranno le condizioni dicono ma quella lì l'hai mata ecco no però a me piace farlo quello però non so fare altre cose e quindi ecco che per fortuna essendo diversi possiamo trovare ciascuno di noi nell'ambito del lavoro un proprio ruolo anche personale e che ci dà piacere le cose che ci danno piacere non è che ci disturbano le cerchiamo e quindi ecco che questo monitorare ha bisogno proprio della nostra attenzione e c'è bisogno di tutti perché il lavoro di tutti può essere trasformato in uno di questi fra virgolette aiuti del moderno e del prossimo e del prossimo futuro quindi ecco che come vedete è una relazione che continua nel tempo questo è uno è uno dei modelli diciamo così disponibili sul sul mercato è uno che è utilizzato rimproplasmopara di Mark Trappman io non faccio pubblicità per nessun modello è giusto anche dire che questo di chi è perché è uno di quelli disponibili è uno di quelli sì ecco noi lavoriamo da anni con Mark Trappman cioè da 40 anni che collaboriamo con Mark e Mark è un tecnico di Campania che ha sempre un rapporto diretto con l'agricoltore quindi anche in quello che lui ha trasformato poi genialmente da osservazioni in modello è anche è vicino a chi ha l'aspettativa del campo che è trasformare l'informazione in qualcosa di semplice in un'immagine che sia facilmente che sia corretta e che sia facilmente disponibile anche a chi lo guarda perché non tutti abbiamo la stessa attenzione ma chi guarda ovviamente deve trovare qualcosa di semplice e allora siccome da noi i produttori soprattutto biologici lavorano con RIM per l'articchiolatura da oltre 20 anni ecco allora ecco che abbiamo seguito un po' anche questo modello poi ecco qui è solo per far vedere qui il modello serve a dire solo che il modello altro non è che il risultato di tante osservazioni e quindi non c'è pubblicità c'è solo informazione che queste cose sono importanti e sono talmente importanti perché per validare i modelli che arrivano sul territorio abbiamo bisogno di avere i dati e quindi non deve essere una cosa passiva il modello deve essere una cosa che interpreta le osservazioni e poi per validarlo anche con i risultati storici possiamo vedere se funziona o meno se è corretto o meno e quindi dare una fiducia più o meno importante a quello che dopo lo sperimentatore il tecnico il produttore possono vedere infatti Luisa mi stavo proprio scrivendo una parola che era confidenza e dopo tu hai detto hai usato la parola fiducia perché guardare i modelli previsionali non vuol dire sapere quando fare trattamento vuol dire avere un'opzione in più un'informazione in più per comprendere cosa sta succedendo cosa forse sta succedendo nel vostro vigneto e avere lo stimolo per andare a osservare se quella infezione prevista che io ho sicuramente protetto cioè ho protetto la mia vegetazione ma poi vado e lì la curiosità e la confidenza che ne nasce nell'andare in vigneto e vedere sì quella era un'infezione prevista e io ho trovato una macchia in tutto il mio vigneto non importa era una ed era stata prevista quindi uno comincia a entrare in relazione con questi strumenti allora io credo tanto nel fatto che dobbiamo conoscere quello che facciamo dobbiamo conoscere noi prima per poi usare bene gli strumenti che ci aiutano a migliorare la nostra conoscenza così penso che avremo soddisfazione i giovani troveranno stimoli nuovi per motivare e andare guarda è prevista un'infezione oppure una sporulazione vado a vedere sta sporulando e così creo la fiducia certo questo secondo me è il modo che penso che Luisa condividiamo che ci hai appena detto è quello proprio di avere questo rapporto con la tecnologia e l'informazione cioè ci dà la possibilità di aumentare la nostra capacità di analisi di parte certo perfettamente è questo proprio il messaggio semplice da lasciare su questo argomento insomma che è moderno che è nuovo che è importante ma la macchina non sostituirà mai la testa dell'uomo l'aiuterà sarà la soddisfazione di dire ah guarda quel modello lì me l'ha detto giusto cioè di avere anche questo rapporto diretto nel dire è giusto non è giusto c'è non c'è e quindi l'attore principale deve sempre rimanere la figura umana sì così è importante hai ragione Giovanni è il messaggio giusto da dare non esisterà mai che schiacciamo il bottone che qualcosa qua di anonimo ci dice cosa fare no purtroppo facendo così non andremo avanti rischiamo di andare indietro perché perderemo pian piano anche quella conoscenza quella di base che ognuno ha ma si affevolisce se non l'alimentiamo quindi questo secondo me è importante allora e qua ah qua sono le questioni questo qua è sempre un'analisi storica di mettere un modello in così in confronto con quello che succede nella pratica e dire adesso caro mio vado a vedere se ci racconti qualcosa di giusto o di sbagliato e guardate questa è mettere in relazione la gravità della peronospora su un testimone in quel momento che è a fine giugno e vedete in rosso tutte qui tutti gli istogrammi della gravità relativa dal 2007 al 2021 di come si è affermata la peronospora in questo arco di annate sotto in blu vedete invece la gravità della stagione della peronospora quella reale quella verificata su un testimone e quindi dove vediamo veramente la relazione che esiste fra un'informazione reale e quello che ci aveva previsto il modello e quindi vedete che tutto sommato l'affidabilità è interessante cioè quindi ecco questa confidenza che noi costruiamo che appunto è basata poi sul dare fiducia a quello che il modello ci dice fiducia però avere fiducia è giusto però sempre con quell'istinto umano di dire eh però prima io ti guardo adesso mi dici giusto o sbagliato e vedete che se la storia è maestra di vita e quindi se una cosa è giusta o sbagliata è solo la storia che ce la può dare ecco vedete le nostre osservazioni che sono quelle in blu messe in relazione con le previsioni del modello vedete che tutto sommato un po' di fiducia la possiamo anche dare e allora ecco cosa vuol dire ehm trovare quello che giustamente eh diceva molto semplicemente Giovanni prima no? ecco cioè ehm la fra noi e la e il modello deve esserci quasi una competizione ecco no? cioè vivere con questo spirito dove la figura umana non perde mai il valore quello che vedo io che credo sia giusto aspetta provo a confrontarmi con questo modello storico che fa sintesi di tante conoscenze e quindi ecco cosa vuol dire cosa vuol dire validare un modello ecco la validazione ha bisogno delle nostre osservazioni della storia di trovare di trovare un momento delicato dove possiamo fare un confronto fra quello che noi guardiamo che abbiamo costruito come momento sensibile e come quello che un modello ci può dare in risposta in quel in quel determinato momento e vedere se la simulazione è corretta o meno e se non è corretta ecco che il modello ha bisogno non dobbiamo dire sbagliato non funziona il modello ha bisogno di essere corretto e allora ecco che per correggerlo servono le informazioni storiche ecco allora questo dialogare come dicevi tu prima c'è bisogno di tutto nel dialogare e non è fra noi la macchina alla fine il dialogo è fra noi e altre persone perché le altre persone dietro costruiscono questi elementi ecco qua sempre un'altra simulazione vedete vedere come è stata la comparsa delle macchie l'evoluzione delle macchie data dal dal modello o data dalla realtà ecco e vedete che dal 2007 in questo caso siamo arrivati al 2017 c'è solo un anno dove le cose non sono in sintonia non sono sincronizzate ed è il 2015 ed è stato un anno che per un ospora non ce n'era e allora quando noi non possiamo vedere con i nostri occhi correttamente ecco allora che è quella conferma che è sempre un dialogare non è mai una delega neanche il modello quindi alla fine questa storia sintetizzata nel modello è per noi l'occasione di un confronto ed è un confronto storico perché chi fa modelli queste cose le costruisce anche raccogliendo dati che arrivano da 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 enormi territori sì è vero sarebbe bello avere proprio questa rete di chi osserva e chi usa modelli in maniera questo nel mondo ideale facciamo questa questo una rete di bravi osservatori che a me piace chiamare Ampelonauti e dall'altra parte una rete di brillanti ricercatori inventori che mettono insieme queste informazioni in modelli matematici aperti in maniera che possano interagire con le persone perché così sarà un'evoluzione perché la peronospora evolverà con nuove comportamenti sulla base del clima della sua capacità di adattamento quindi è un fungo anzi mezzo fungo che sa adattarsi molto bene alle situazioni tra l'altro prima non ho evidenziato un andamento un comportamento sui testimoni non trattati che mi sembrava facesse vedere come l'intensità la gravità delle infezioni nei 30 anni 40 anni che avevi messo a disposizione o forse anche di più è crescente cioè c'è un po' un aumento delle infezioni gravi di inizio stagione che anticipo un po' l'argomento che è molto interessante quindi mi piace adesso arrivare su questo sì sì no no giustamente c'è allora quando tutti parliamo dei cambiamenti climatici per esempio dire che la temperatura mediamente sta cambiando di un grado e mezzo rispetto diciamo anche solo rispetto a non molti anni fa 20 anni fa la temperatura è aumentata di un grado e mezzo se pensiamo a un discorso medio cos'è che sentiamo noi di quello niente possiamo dire che abbiamo estate un po' più calde l'inverno meno freddo cioè così però per natura un cambiamento di un grado e mezzo è tantissimo e questi cambiamenti noi li possiamo toccare probabilmente andando a essere umili osservatori del comportamento della natura in questo caso nel caso della peronoscura e quindi ecco che e non è sbagliato perché noi quando non sappiamo dare a chi dare la colpa diamo la colpa sempre al clima però la natura ha un orologio che è dato dall'umidità dalla temperatura e dalle ore luce e questi e questi e questo orologio è quindi strettamente collegato agli andamenti di fenomeni naturali umidità temperatura ore luce è un orologio che è tremendo quando si scandisce nel risultato del cambiamento e noi in questo da una parte siamo spettatori perché abbiamo il risultato dall'altra però non dobbiamo mai dimenticare che possiamo essere anche una delle cause magari la causa principale di questi cambiamenti e qui ovviamente si aprirebbe un discorso che è lunghissimo ma è una riflessione che giustamente tu Giovanni hai suggerito perché non dobbiamo mai dimenticarla no 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 allora ecco seconda parte della seconda domanda riflessione quali sono i risultati che hai tenuto grazie al controllo della presenza della peronospora nel vigneto nel senso ok mi hai convinto che adesso vado a fare il monitoraggio cosa posso risultati che mi hanno aiutato allora ecco qua vedo alcuni esempi molto belli che concreti sì sì dai è questo in piccolo perché ovviamente noi non è che abbiamo lavorato un'eternità abbiamo fatto tanti anni ma non è un'eternità però anche il risultato del guardare con attenzione metterlo in relazione con quello che succede ci ha permesso per esempio di aiutarci a capire che la gravità della prima infezione cioè quando la peronospora torna sulla vite dal terreno dove ha svernato torna sulla vite che è il suo ospite che le permetterà di esprimersi in quella nata ecco lì perché ci sia un piccolo aiuto di dire ma quest'anno la stagione sarà importante all'inizio avrò un'infezione primaria importante non sarà importante ecco che ecco ecco che il 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 risultato come vedete dell'accumulo della quantità di pioggia che ho durante il mese che precede la ripresa vegetativa ecco se io durante quel mese che precede la ripresa vegetativa ho un accumulo di 80 100 millimetri di pioggia e questo è stato il primo elemento che abbiamo trovato con una certa relazione anche un po' matematica ecco se abbiamo questa risposta ecco che la prima infezione magari non sappiamo dove ma la prima infezione potrà essere importante l'importanza sarà o localizzata o estesa e lì però non abbiamo ne ancora capito niente però quando abbiamo questo accumulo sappiamo che da qualche parte in quell'annata una primaria potrà essere anche importante e allora ecco che la storia ci ha consentito di trovare questo primo aiuto per la pratica adesso se abbiamo una stagione e continua ad andare avanti siccitosa è logico che mi mancherà quella umidità del terreno che permetterà alla peronospora di essere presente in modo importante per darmi una prima infezione importante ecco però dopo è proprio pioggia quantità di pioggia nel mese prima dell'inizio della diciamo dal germogliamento della presa vegetativa ok aprile da noi insomma noi l'abbiamo quantificato anche come mese relativo ai nostri ambienti è il mese di aprile che ci dà la risposta di come sarà il rischio magari in sud Italia sarà marzo sarà marzo ecco se questo ovviamente noi lo facciamo legato alle nostre realtà però è un aiuto che è importante quindi dobbiamo rispettare ecco dopo probabilmente che aiuterà ci sarà anche un problema di temperatura che avrà cioè servirà la pioggia ma serve anche la temperatura per la maturazione poi parlando di temperatura ci sarà anche il tipo di terreno l'umidità che è nel terreno cioè diciamo la notizia è limitata perché do una risposta ha un valore me ne mancano tanti altri però aver già trovato un primo aiuto ecco è sicuramente qualcosa che per la pratica può avere un valore quindi ecco è una prima risposta insomma che è importante insomma conoscere poi appunto l'andamento climatico è a un certo punto la stagione cioè questa passa quel periodo di incubazione e compaiono le sporulazioni queste belle macchie le macchie che hanno un aspetto diverso tra la pagina superiore e la pagina inferiore che tutto il mondo conosce anche se ogni tanto le infezioni primarie ascosporiche hanno una tale no forza che sulla pagina superiore sono leggermente traslucide un po' si vede quest'areola no? uno dice ma cos'è una peronospora che non è tanto virulenta o è una scosporica molto forte è qualche così eh sì è quello lo spirito lo spirito di osservazione no Giovanni cioè dobbiamo essere in grado di dire ma siamo in presenza di una peronospora oppure ecco a volte appunto giustamente c'è il dubbio che non si possa confondere con uno idio e quindi dobbiamo anche avere queste capacità se è peronospora in pagina inferiore prima o poi compare la famosa sporulazione la muffetta bianca e quindi diventa poi inevitabile non fare più l'errore ma questa è la famosa sporulazione e che è l'altro fattore importantissimo della peronospora perché quando inizia la sporulazione ecco è vero che ho tutta questa parte delle primarie che è il ritorno della peronospora dal terreno alla pianta ma quando io ce l'ho in pianta la sporulazione che prende il sopravvento sono le secondarie quindi da ognuna da ogni piccolissimo elemento di quella muffettina bianca si scatenerà in condizioni ideali una grandissima possibilità di avere macchie altre macchie di peronospora e quindi tante secondarie poi noi non è che possiamo interrogare se è primaria se è secondaria macchie sono e la peronospora va avanti con macchie sporulazioni quindi questo mi interessa molto Luisa perché hai hai fatto soprattutto negli ultimi anni molte osservazioni sulla sporulazione giornaliera certo delle macchie presenti nel vigneto e mi interessa capire questa cosa ecco sì ecco è un altro lavoro importantissimo da fare in campo allora quando abbiamo la comparsa delle prime macchie noi ci segniamo delle macchie all'inizio almeno una decina e andiamo tutti i giorni a guardare quella macchia guardiamo se c'è o non c'è sporulazione e come facciamo quella macchia ogni giorno la guardiamo diciamo sì e no c'è o non c'è diciamo ce n'è poca ce n'è media ce n'è tanta ecco e basta lavarla con uno sporsetto e la muffetta bianca che è una cosa solo superficiale viene via si pulisce poi se vado a guardare la stessa macchia il giorno dopo posso dire se c'è stata un'altra sporulazione e qui con questa osservazione giornaliera delle stesse macchie allora posso dire fino a quando una macchia sporula e tante volte la macchia che io segno ancora maggio sporula fino ad agosto inoltrato magari diventa secca all'interno addirittura si lacera ma in giro il micelio avanti quindi continua a sporulare e poi posso andare a vedere sulle macchie nuove che mantengo sempre anche nell'osservazione e vedo anche lì la sporulazione questo concede di costruire questi grafici come vedete giornalieri che ogni giorno mi dicono se la sporulazione c'è non c'è se è importante quindi e guardate per esempio qui abbiamo la spiegazione del perché la peronospra nel 20 è stata aggressiva e nel 21 è stata meno ed è stato solo guardando la comparsa di questa muffete guardate il giugno guardate come cambia la sporulazione durante il mese di giugno e vedete che nel 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 2020 ho avuto una sporulazione importantissima guardate come il grafico blu è alto e invece nel 21 ho avuto una sporulazione meno importante il grafico rosso e vedete che è basso ecco giugno tante volte grazie all'osservazione ed è l'andamento climatico che ci dà ovviamente questo risultato ecco guardate come può fare la differenza fra un anno e l'altro quindi ecco cosa vuol dire guardare e conoscere e qua sono soprattutto bagnatura questa è la bagnatura vi farò vedere dopo che la quantità di pioggia è uguale la pioggia è uguale perché la pioggia c'è da vi farò vedere dopo in posti vicini la pioggia è uguale nell'arco anche di 200 metri non può cambiare la quantità di pioggia ma che cambia è la bagnatura ecco la bagnatura vuol dire la zona in cui mi trovo come posizione proprio no fisica quindi un fondo valle una zona magari dove si accumula l'umidità piuttosto che le ore di bagnatura o le ore di pioggia anche certo anche la pioggia ovviamente no perché la bagnatura è sempre data anche dalla pioggia quindi e anche dalla gestione della chioma no però cioè una chioma magari appressata affolta dove c'è meno ricircolo d'aria ovviamente la bagnatura rimane più lungo certo 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 quindi tutti questi fenomeni come vedete anche se crediamo fossero in realtà matematici solo l'osservazione ci permette di trasformarli in qualcosa di visibile quindi è importantissimo avere questo risultato insomma dato dall'osservazione e dopo adesso ho anticipato un'altra cosa fondamentale no che è l'importanza di tener conto anche di quella che è la crescita vegetativa sì perché ovviamente le vegetazioni cambiano e la vegetazione ha un ruolo importante su tanti fattori uno può essere quello che ci diceva appena adesso Giovanni che è quello appunto di poter interferire sul durato della bagnatura però poi la crescita vegetativa è importante ed è fondamentale per dare copertura ai prodotti e qua in questo grafico nello stesso appessamento abbiamo messo in relazione per esempio la crescita vegetativa nel 2008 e nel 2009 quindi due annate un po' lontane però ecco vedete l'andamento in una stagione in questo appessamento e dopo vediamo anche schiacciando ecco vediamo anche come può essere diverso e quindi allora la crescita vegetativa nello stesso appessamento può variare da un anno all'altro e se la guardiamo in giugno è molto diversa ma qua nella stessa zona in base alla varietà e alla zona guardate che differenza di crescita vegetativa possiamo avere da un teroldego che in quel determinato momento per esempio in giugno posso avere 25 foglie nello stesso momento una varietà come il pinot grigio ne ho 35 noi facciamo dappertutto uguale però la crescita vegetativa non è uguale quindi quando vado a giudicare un prodotto devo sapere anche che tipo di crescita vegetativa ho e quindi ecco perché tutte queste cose sembrano diciamo questo qua non sa cosa fare va a guardare va a guardare come cresce una foglia o come cresce un germoglio però qua sta la differenza delle valutazioni ecco in questa foto molto semplice la foglia in basso vedete che è sempre la stessa guardato il giorno del trattamento quattro giorni dopo e una settimana dopo come è variato il numero di foglie e la lunghezza del germoglio dal momento in cui ho fatto il trattamento a una settimana dopo e questo è quello che nel tempo ci ha aiutato a capire che pensare di fare una difesa per un'ospora con un trattamento in settimana lì diventa solo fortuna avere un buon risultato è vero infatti questo ci fa capire come anche la crescita di ogni stessa foglia che viene coperta bene il giorno del trattamento dopo quattro giorni la foglia già ha una superficie che ha almeno il doppio forse è il primo esattamente no no dicevo che questo ci porta a capire che ci sono c'è un'attenzione che non può essere delegata completamente all'esterno deve essere un'attenzione di ognuno che fa il trattamento e decide di fare il trattamento cioè del viticoltore nell'azienda che conosce che ha queste informazioni quindi si rende conto che la sua superficie fogliare sta aumentando e quindi deve non ritenersi completamente protetto se è il caso di riportare una protezione ovviamente questo esattamente lì ecco ritorna le previsioni anche dei modelli previsionali le previsioni meteo cioè l'unione dei due e capire da queste combinazioni cosa devo fare ecco ma il fare a caso è un roulette russa cioè si rischia di perdere l'abbiamo detto fino all'inizio della matematica con la natura non va tanto d'accordo quindi noi dobbiamo cercare di contenere la peronospora quindi di difenderci dalla peronospora non dobbiamo difenderci dai giorni no no ecco e quindi ecco perché parlare di di tre giorni quattro giorni una settimana una volta e basta fare il trattamento una volta in settimana questo che era un'abitudine che era molto viva nel passato adesso rischiamo veramente di compromettere la produzione se siamo in una di quelle annate in quei momenti dove la peronospora sa essere molto aggressiva quindi ecco che veramente è importantissimo tenere conto queste cose come ecco questo lavoro questo risultato che abbiamo ottenuto anche quello di guardare con criticità il risultato che nei diversi anni può darci l'uso dello stesso prodotto in questo caso il grafico è riferito all'efficacia al grado di efficacia del rame dal 2012 al 2020 nello stesso apprezzamento perché ovviamente questo è riferito nello stesso apprezzamento e guardate come il grado di efficacia può cambiare nel tempo e quindi noi possiamo vedere le dosaggi di rame per ettaro come hanno risultati molto molto eh sì guardate questi addirittura nel 2017 avevamo i due dosaggi noi adesso questo è un dato discorso ma i 400 i 600 grammi ettaro di rame nel quindi come diceva bisogna aumentare il rame per avere per aumentare l'efficacia ecco non non è sempre così ecco i 400 grammi ettaro di rame metallo per trattamento per noi sono il dosaggio massimo che come vedete se diamo una grado di efficacia che sia del 95% nella sta grande maggioranza degli anni ecco che il risultato positivo ce l'abbiamo anche col basso dosaggio non serve aumentare il dosaggio servirà migliorare altre cose no? ecco però la criticità dell'osservazione ci permette di dare un risultato un'interpretazione a come può cambiare il risultato in base proprio a quella che è l'annata come addirittura noi abbiamo costruito anche questo sempre con rame quando abbiamo infezioni precoci come nel 2014 2017 come infezione più importante allora il rame funziona benissimo e qui l'importante è poi bagnare bene logicamente ma il risultato non dipende dal dosaggio dipende dalla distribuzione che facciamo quando in questo caso l'infezione è precoce quando il grappolo non è ancora chiuso quando l'infezione è portante come nel 2018 che è un'infezione che logicamente è avvenuto su un grappolo che era già chiuso ecco allora che abbiamo una copertura insufficiente negli acini interni nell'acino che ormai ha chiuso all'interno altri acini che non ha una superficie ben esposta che c'è differenza fra la parte davanti e la parte dietro del grappolo e lì ecco con l'osservazione riusciamo a costruire veramente dei risultati dell'efficacia veramente importanti quindi ecco che queste cose alcuni esempi pratici dell'interferenza nella pratica allora vediamo verso la fine ecco qua rivediamo delle macchie vediamo la sporulazione e ecco che perché guardare la sporulazione è importante allora basta guardare vi ho detto ogni giorno si pulisce ogni giorno si guarda e vediamo la sporulazione e allora se andiamo anche in zone vicine a guardare questo risultato ecco che in linea d'aria dei risultati ecco vedete che io sto lavando la foglia quindi tolgo ogni giorno con lo spruzzettino tolgo la macchia che si è formata ecco la sporulazione che si è formata ogni giorno ecco andando in zone vicinissime a fare questo lavoro ecco nel grafico che segue vedete che a parità di zona vedete quindi dalla prima freccia che vedete qua all'ultima freccia non c'è neanche un chilometro di distanza quindi la quantità di pioggia è uguale non è cambiata anche se erano temporali ma guardate andiamo da due sporulazioni nell'arco di un nell'arco se vedete di una trentina di una quarantina di giorni un mese e mezzo ecco andiamo da due sporulazioni a oltre 20 sporulazioni in un giro così breve di distanza quindi questo è un microclima e questo e questo andamento vedete con un numero molto diverso con un numero bassissimo medio e molto alto di sporulazione dà poi sui testimoni dei risultati di gravità di attacco molto diversi perché ogni sporulazione aumenta l'inoculo se ho macchia in pianta ogni sporulazione aumenta esponenzialmente l'inoculo perché da migliaia passo a milioni a miliardi di conidi e poi il risultato sul danno lo vediamo sempre nel grafico perché il risultato che vedete è che dove avete due sporulazioni non ho danno sull'uva dove ne avete avuto altre 20 anche se siamo su testimoni completamente vicini il risultato è completamente diverso quindi Luisa tu suggerisci ci suggerisci di fare una zona azione per la Peronospora ah sì eh sì eh sì guarda che il buon senso dell'agricoltore queste cose le conosce già perché io cioè con questo lavoro abbiamo messo in pratica quello che l'agricoltore sa già quando parliamo di di Peronospora si parla di diverse zone a rischio diverso e qui sta la diversità questo è l'argomento che secondo me ogni azienda dovrebbe fare definire bene proprio sulla propria mappa aziendale oltre al tipo di terreno al cru in cui ottengo il grande vino ma anche dove ho le mie zone con gravità no con diciamo sì sensibilità sensibilità diversa può essere giusto sensibilità ti piace il termine è giusta la sensibilità perché vuol dire la facilità di quell'ambiente di quel mondo di contrarre la malattia in modo esteso o in modo contenuto e questo è in base proprio a un risultato che è la natura che lo definisce e quindi ecco che possiamo proprio parlare di zone più a rischio e di zone meno a rischio parlando di peronospora perché quando io parlo di una zona altamente a rischio per la peronospora dall'altra parte ho anche un altro risultato che vuol dire che quella zona lì sarà meno sensibile all'uidio se invece parlo di zona altamente sensibile cioè che non è sensibile la peronospora quindi lì mi sento sicuro tranquillo lì so che nella grande maggioranza delle situazioni quella sarà la zona dove dovrò stare attento all'uidio perché i funghi hanno due necessità completamente diverse quindi non è che esiste la zona ideale in tutto ecco esiste la zona sensibile a una cosa e meno sensibile all'altra e allora ecco quindi sono queste le cose che solo l'agricoltore poi sa insegnarci ritornando al discorso di partenza la conoscenza è un punto di incontro ah sì qua hai anche utilizzato l'informazione della vigoria che è molto importante ah certo certo e qui anche sta proprio la mano del produttore e un risultato ambientale perché logicamente quello che è la vigoria della pianta sicuramente da una parte c'è il tipo di terreno che dà una spinta però dopo la spinta sarà anche un po' la stagione che la determina in un modo più o meno veloce però dopo la grande mano è la professionalità dell'agricoltore eh sì che può gestire la propria vigoria in funzione dell'obiettivo enologico quindi non è che devo gestire la vigoria in funzione della peronospora o secondo me penso che debba andare ad un compromesso se io voglio ottenere quell'obiettivo enologico che passa attraverso la sanità delle uve e la produzione ovvio e ho quella zona alta sensibilità e magari perché è un'alta vigoria dovrò ridurre la vigoria fino a quel punto in cui mi è possibile fare una difesa efficace e intelligente no? si rischia di accanirsi e vedo anche questo no? accanirsi di ottenere un risultato in una zona in cui di fatto c'è un errore di fondo certo hai messo il vitigno nel posto il vigneto e il vitigno anche nel posto sbagliato magari un merlot in fondo valle su un terreno umido probabilmente non è neanche la zona dove tu puoi ottenere un grande merlot oltre a essere molto difficile da coltivare ecco certo no no questa è la conoscenza è la sintesi dell'esperienza questa e quindi la necessità che ognuno faccia un proprio lavoro perché ognuno può contribuire a queste cose proprio anche col proprio spirito e qui vediamo in questo grafico così molto semplice questo è il risultato della difesa addirittura nello stesso appessamento a volte nello stesso appessamento abbiamo pur con la buona mano del produttore abbiamo delle vene di terra che possono far naturalmente mettere in evidenza avere piante più vigorose e meno vigorose dove meno vigorosa è la nostra pianta poi più facile la distribuzione e migliore il risultato di quello che faccio invece se la vigoria è un po' più estesa più importante ecco che anche il risultato di quello che faccio è un po' più diciamo inferiore nell'efficacia e guardate qua la differenza cioè in base al vigore nello stesso appessamento siamo andati in una data importante come era il 2008 andavamo come frequenza dal 25 al 60% di grappoli con presenza di peronospora il grado d'attacco andava dal 3,7 al 7,5 anche il 7,5 non è accettabile però questo vuol dire che è il risultato della nostra manualità però legata non è che nello stesso appessamento la peronospora questa variabilità è proprio la vegetazione che cambia perché qua era proprio la vigoria quindi ecco come anche quando noi giudichiamo una situazione e un risultato serve anche sempre quell'occhio legato a chi il risultato sa metterlo in relazione col tipo di pianta ecco perché è l'agricoltore che insegna tante cose almeno io ho imparato tutte queste cose dall'agricoltore che sempre mi diceva a me chiedeva magari posso venire a guardare il tuo testimone lì nella zona vicino alla mia e io diciamo ma certo vieni a guardare e lui poi mi aiutava a dire vedi qua c'è meno vigoria e il risultato è minore ecco e dopo invece dove c'è vigoria vedi qua c'è qualche difficoltà ho fatto tutto uguale ma qua sto bene qua c'è un problema su questa parte di appissamento non ho niente qua o qualcosa cioè capite bastano piccole variabili per far cambiare un risultato ecco quindi quindi sono queste le cose belle ultimo minuto e poi c'è qualche commento che mettiamo no sul ruolo della bagnatura fogliare perché è uno degli elementi uno degli elementi chi amano della peronospora è la bagnatura fogliare abbiamo già detto ma proprio per chiudere sono due belle informazioni da sì sì ovviamente abbiamo detto che la gravità della stagione peronospora dipende fortemente da che secondarie avrò più sporulazioni ho e quindi più rischio di gravità ce l'ho quindi la relazione con con le sporulazioni che ovviamente sottintendono anche l'andamento climatico ma più sporulazioni e condizioni di infezione ho e più avrò un attacco finale importante e questo è una cosa che ci ha permesso appunto di dare queste informazioni e quello che l'agricoltore dice di avere zone più sensibili mentosensibili ecco dipende da questi fattori e da questi fattori noi siamo un po' spittatori ecco quindi che l'agricoltore sappia noi abbiamo aziende parcellizzate quindi l'agricoltore è costretto a vedere dove ha più più rischio o meno rischio dove deve stare più attento o meno attento dove anche la vigoria può essere importante o meno importante cioè la sintesi di allora il risultato di una per un osporo è una sintesi la gravità dipende da fattori esterni che noi subiamo come il clima oppure dipende da fattori sui quali noi possiamo avere un'influenza che è anche una vigoria e allora ecco che l'uomo non deve mai dimenticare di essere parte della natura e quindi e questa non è una cosa poetica una volta io mi ricordo mi diceva la Luisa fa poesia magari magari si può usare un linguaggio poetico per dire per dare importanza a un aspetto che invece diventa fondamentale no a me piace anche avere questa questa visione che diventa anche fattibile più delicata fare una zonazione aziendale questo che nell'immagine di chiusura di questo bellissimo appuntamento di stamattina è una zonazione diciamo così una delimitazione di zone precoci ed asciutte con minor sensibilità no quelle quelle evidenziate in giallo e le altre sono quelle con maggior sensibilità e così anche uno può dare priorità ad alcuni interventi quando non c'è molto tempo può programmare il proprio giro magari starà più attento metterà nel momento migliore non a dosaggio diverso però nel momento più perfetto l'intervento e questo ognuno può farlo con lo stesso modo facile nella propria azienda per poter appunto fare quella naturale viticoltura difesa di precisione che passa attraverso le proprie osservazioni così la difesa di precisione non è un qualcosa che leggo di altamente tecnologico che mi deve arrivare da altri o da altro dall'esterno è qualcosa di nostro la difesa di precisione è fatta dalla ogni giorno mi alzo e conosco un po' di più del mio ambiente e lo scrivo lo condivido con la rete aziendale io credo nelle reti aziendali ho visto anche un bel commento di Giuliano Preghenella sulla rete a lui che piace fare rete quindi magari lo mettiamo eccolo qua Luisa ha esordito l'importanza del fare rete qui vorrei fare un elogio grazie Giuliano per tutto il suo servizio e le sue dirette farete peccato solo che non tutti capiscano l'importanza dell'utilità delle nuove tecnologie del fare questo tipo di rete ma prevalga il timore della condivisione dei dati che purtroppo che purtroppo c'è c'è il timore della condivisione dei dati che a me dispiace sempre tanto perché ci priva di una parte del mondo reale che è difficile comprendere e rischiamo che ognuno vogliamo fare le nostre strade e della preziosità che ciascuno contribuisce siamo tutti importanti e la rete dà la possibilità ad ogni persona di sentirsi parte importante della rete certo parte importante c'è bisogno di tutti non è un non si deve aver paura della rete no 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 assolutamente la rete aiuto non è egoista la natura non è egoista la natura lei lei ci dà proprio le indicazioni e se ciascuno di noi sa far uso di queste indicazioni uso corretto e onesto delle indicazioni allora costruiamo conoscenza sì 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 Luisa queste sono sono concetti molto importanti che mi è piaciuto veramente tantissimo condividere con te e e soprattutto con tutti quelli che hanno ascoltato che si sono uniti a questa conversazione tecnica ma anche con una bella sensibilità con una prospettiva di possiamo fare non abbiamo perso niente anzi dobbiamo metterci in gioco sicuramente di più e spero che serva anche a motivare più persone da quelli che hanno sentito e magari ognuno potrà dire a un altro guarda mi sembra che questo modo di gestire la difesa poi noi abbiamo parlato di Peronospora ma si può parlare allo stesso identico modo di Acari piuttosto che di Coccinilli e che di Tignole di Scafoideo e di Flavescienza ho visto una battuta sulla Flavescienza e sullo Scafoideo sono argomenti che hanno bisogno di persone che si impegnano molto che condividono le informazioni e di ogni viticoltore che fa la sua parte che si mette in parte attiva allora io comincio a salutare tutti quelli che si sono collegati Mauro Schippa che saluto è anche ci condivide un suo pensiero in cui scrive penso sia molto importante per seguire lo sviluppo e non il vigore della vita per fare ciò la nutrizione deve essere mirata selezionando tecniche e tecnologie certo infatti i momenti vegetativi hanno bisogno per esempio per esempio chiudo con questa così spunto da parte di Mauro Schippa in Friuli conosco meglio adesso in Friuli negli ultimi anni la piopposità del mese di maggio è aumentata molto cioè è aumentata la media della piopposità del mese di maggio mentre giugno e luglio sono mediamente più siccitosi questo è il clima degli ultimi vent'anni rispetto ai vent'anni precedenti questo è un po' anche quello e le temperature anche e quindi sono due combinazioni per cui la vite ha uno sviluppo vegetativo nel mese di maggio probabilmente un po' più veloce quindi si sviluppa con maggior velocità e quindi raggiunge interno di più lunghi fogli più grandi più massa in breve tempo allora forse la nutrizione che è stata sempre tradizionalmente fatta solo al germogliamento dovrebbe essere dovremmo ripensare se è ancora giusto farla solo esclusivamente al germogliamento perché rischio tra l'altro di perdermela tutta in un mese e stimolando un eccesso di crescita no quindi rischio un eccesso di crescita in questo mese che vuol dire anche una maggior sensibilità quindi ecco questa è un po' vedi ho imparato no Luisa un piccola cosa che mi di fatto mi dice che non ho imparato niente che è quella che tutti i fattori del vigneto dell'agronomia di un vigneto sono tutti collegati tra di loro la sanità con la vigoria con le pratiche agronomiche con la scelta che ho fatto del portennesto e della posizione in cui ho messo di come cioè tutto è collegato quindi non è che io posso agire su uno e non dimenticarmi e dimenticarmi degli altri ecco esattissimo sì sì non ho un fenomeno ho ciascun fenomeno non è un comportamento strano è un è un risultato di un'evoluzione dove gli elementi naturali come il clima li subiamo ma gli elementi personali passivi come può essere giustamente un fenomeno come la nutrizione come la scelta già del momento di impianto dal portainesto cioè quello che ecco perché serve vedere perché quello che vediamo è il risultato di una combinazione di variabili e noi con l'occhio e la testa abbiamo la possibilità di dare valore a questa combinazione io ho mutuato una frase importante di Baden Powell che ho imparato quando ero un giovane scout che è osservare dedurre agire lui vedeva tante volte la scritta tante volte nel suo taquino osservare dedurre agire perché non fare un'azione senza aver dedotto né osservato ed è quello del premol pulsante quindi solo agisco ma non ho messo niente di mio cioè non ci ho ragionato non ho dedotto e tantomeno non avevo neanche fatto osservazioni e invece penso che fosse geniale questa frase osservare poi dedurre e poi agire una semplice così è uno dei motti di Baden Powell che mi piace ma è su di vita va bene Luisa va bene tantissimo del tuo tempo della tua esperienza della tua voglia di comprendere di questi bellissimi lavori che hai fatto e che spero che grazie anche a Mauro continuerai un po' a fare dai così è un divertimento perché adesso ti piace non vedere questi numeri essere curioso nella natura è una regola di vita per l'uomo perché anche noi siamo natura e quindi anche io ringrazio tutti voi ringrazio te Giovanni di aver voluto condividere questa mattinata con me questo argomento con quella che è stata la nostra esperienza e mando a tutti un grande abbraccio e auguro a tutti una buona annata un'annata ricca di soddisfazioni e le soddisfazioni vengono anche dalle osservazioni perché quando io avevo un testimone pieno di peronospora la mia espressione di stupore adesso oh che bella peronospora che ho ecco e quindi magari mi guardavo un po' ecco però insomma ecco le soddisfazioni vengono da tante cose insomma questa è una soddisfazione però nel testimone o peronospora e negli abbracamenti invece diciamo che il danno è trascurabile questa diciamo addirittura nell'ala attaccata che abbiamo visto testimone ricco ala attaccata interessante perché perfetta quindi ecco che tante queste cose servono anche a imparare a non avere ecco la conoscenza ci aiuta a non avere paura vivere con la paura non è bello no no l'unica cosa per vincere la paura che è un sentimento umano è la conoscenza la conoscenza non si delega ma la conoscenza è un valore personale quindi ecco perché anche l'agricoltore deve crescere con questa idea di affrontare la paura con la conoscenza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per vincere la paura grazie grazie mille grazie a voi un abbraccio a tutti di cuore un abbraccio forte grazie gli auguri auguri anche a te di una bella stagione buon tutto grazie mille e buona giornata a tutti grazie grazie